Ma che cos'è sta roba? Il partidisco Mi manca differente Ma che cazzo stai dicendo? Attenzione, intervistiamo su Real Power, che cosa ne pensa di questa modalità? Draw my time Draw my time Eh? Bene ragazzi, qui è Steph e bentornati in questo nuovo episodio dei mini games Minecraft ancora una volta in compagnia di Surreal e Vegas Ciao ragazzi Ragazzi guardate cosa ho scoperto di avere lanciare in aria Dov'è? Non lo vedo Sono un drago della morte Bastardi eh Bastardo stronzo Io sono, io ti tiro un po' l'ho appresso, vieni qua Ragazzi oggi giocheremo ad altri Fantasma Superliggianti, mini games Cos'hai detto Fantasma Superliggianti Vieni qua bastardo che ti tiro il po' Sono qua a trappa a Q A trappa a Q Allora ci siamo nella Queue Finalmente forse ce la facciamo Trasformati in un Enderman adesso Ma che cos'è sta roba Il partidisco Pum puro 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 Siete pronti eh, mai faccio il culo E' quello dove mi devasto di solito Concentrazione, concentrazione Oddio quando si è partito uno davanti e l'ho ucciso immediatamente Poi raggio, ora quello starà bestemmiando Ah 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 Preso, no, e va be' E' mancato, l'ho mancato ma, ma la spada o la cosa Ah 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 Aiuto Teppri Oddio Continuo uccisi di fila, non puoi rapire No rega Ma la gente mi attacca da non so dove Sto continuando a uccidere, eh no sono morto Continuo a morire, basta E va be' Super Mlc, Super Mlc Arrivo tu, arrivo No, no, eh eh Vegas, Vegas, suicidati Arrivo, avevo preso Vieni qua tu, borgio Uh, tu hai deciso Stronzo, ma sei un figliaco alle spalle Solo i codardi E le spalle Solo i codardi La droga, la droga ti fa male, la droga ti fa male Ma di strancio No, aiuto Stefani No, c'è Stefani Ma di che Stefani è morto Stefani Ehi Stefani Buona di strancio Ah Non ero alle spalle se ti interessa eh Prima di te lo dia Mori, mori Guarda Ma stai Oddio sto facendo le kill Sto facendo le plays Le veri kill Oh my god Dove cazzo sono nato io? Le montagne Butterfly 360 Tipo Buttatevi I numeri I numeri Sono lì da dietro Non mi guardano i kill E vabbè Ma sempre nel mezzo alla mischia Ok Extreme 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 Si cos'è Di città degli yogurt Non so per dire io Draw my time Si Draw my time Draw my thing Voglio farvi vedere la mia abilità di pene Di pene Di pene esatto Ma io non sono nel gruppo I pingististi Dov'è? Dov'è? Draw my thing eccolo qua Ucciderà il porcello No Aris Non ce l'ho fatta ucciderlo Ma è fermato Ma a me non mi ha fatto entrare Ma scusa Perché non ti potrà trasformare le stesse cose inquisitive Lascio spararvi con sta roba addosso Perché La nuca al contrario La nuca con le copie al contrario La nuca con le copie al contrario Ok vediamo Indizio sotto 6 lettere Vediamo la sua opera d'arte Quello è il dito medio Medium Medio Guarda Guarda il dito medio Oh my god No Non è sta roba Che cavolo è? C'è una lettera Ma che cazzo è sta roba? La lampada del genio Eh? Un kebab Un sorriso Un fantasma Ma che cazzo Sta pure disegnando Yoshi Ma cos'è sta Mudkeep Oh mio dio Un pokemon No pure ho messo Mudkeep Non me l'ha dato No L'ho scritto grande Allora Tocca a me Vai Surry disegna come nessuno ha mai disegnato mai Surry al paper Poi me lo vendo il tuo disegno Però muovi Disegna Un occhiale Ragazzi Surry non sa disegnare Cos'è? Dai Ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Boom Ma che cazzo è indovinato Ne esplosì Bomba Vaffanculo Vaffanculo Oh la coglione Eh come fai a disegnare una bomba? Un cerchio con un lazzo che prende fuoco Con un lazzo che prende fuoco Eh lasciamo prendere Ehm 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 Va cagare Comunque meno punti di me Come faccio aver indovinato tre parole se essere meno di Surry Come è possibile? Non sa quella roba in aria Ma vedete il giro di roba rossa che gira intorno a te? A me manca è differente Ma che cazzo stai dicendo? Ehm E indovina E Andiamo cazzo risale la classifica stepni a quattro punti e beca si indovina con E che si indovina con i punti per Ma quale c'è possibile la semplice dai poi indovinate tre cazzo Questa mi piace Bellina è lo dio ma sa disegnare sì 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 la so disegnare Ancora non si capisce ve lo dico Capirà da adesso Faccio anche il suono Come si dice vulcano Non lo so come si dice Ma non so come si dice Concentrarsi su ciò che sta succedendo e non su cos'è Stavo bravissimo ragazzi voglio uno screenshot e 100.000 condivisioni su facebook Troppo tardi Vegas Ma vaffanculo Devo disegnare una cosa Vai mister G iniziaci iniziaci E' facile E' facile E' facile Serve per scrivere Non funziona Serve per scrivere Oh peggio Dario Tu non sei disegnare Sì mi hai indovinato Serve per scrivere non te la vedo Ho indovinato anch'io sì ma dai ma che cazzo è C'è 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 Coprire la testa di un drago dai Ma cos'è Stai peggiorando la tua situazione smettila Sempre peggio Ma se ti offendano La gente ti manda a fanculo Se ti offendano è la cosa buona e giusta Ma stavo ridendo No ragazzi Erick sta disegnando Deve sbagliare E' vero Quando ridi non riesci a disegnare Perché il muoce ne va Il mauser No come si scrive Bitch Fuck yeah Ma fa un culo Troppo tardi Ma ha superato Suri Ma ti rendi conto Tocca a me No Suri disegna Oddio 5 lettere 5 lettere 5 lettere Si però non lo puoi scrivere Che guadagni punti così Stronzo E' un ala swing Ma che Wing è un ala Non swing Swing è un ala sboggeggiante E' un dildo Dovinato E' un fiore E andiamo E si fa sopra Suri cazzo Sopra Suri E andiamo Ma che troppo è questo Dai 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 che Erick è sceso E' un ala sboggeggiante Cosa? Cosa ti fai? E' una pokeball Oh Eh Cos'è sto coso? E' Bayblade Ma che cazzo è sto coso? Ah Ho capito Ho capito Si 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 Ma cosa? Ma football Ma football cosa? 15 15 Tocca a me No non ci credo Ora non ne dovina nessuno Gli dico di non scrivere così per Ah si? Non so cosa sia Stable E' una stalla? La stalla stable? No non lo so Tu stai scherzando Stable non è stabile Lotta fino all'ultimo sangue Devo indovinare Vegas Vegas Suggeriscimi Vegas Ragaz Oddio ma quanti lecce sono? Così Un palettone Sto ridendo Che cazzo è? Che cazzo è? Oddio Si mangia No Cola C E' se si vede che Cola C C'è scritto E' marrone Cola C Dolce No È dolce No abbiamo perso Cioccolata Cazzo Dai Secondo Ho pure sbagliato Cioccolate Cioccolate Come si faceva a capire che era cioccolata quella merda? Sembrava gli schizzi di merda nel bagno Secondo sono arrivato Potevo vincere il mio primo draw my thing nella vita Questo è il fantomatico di Sbatto il cazzo 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 Narcobaleno Stryker Super chicken b Guarda guarda Si sta bucando tutto Super chicken b Lui ha vinto Mr. Capcray crunch No sono uscito a love Che coglione Ci sono Sono salvo Ci sono Ragazzi Siamo tornati nello splake Sette Qua ho sempre vinto Qua ho sempre vinto tanto Il lancio di uova Ragazzi uniamoci però eh E non vi vedo vai Cazzo Ma qui è il tasso del furo Ho fatto cadere uno Vai Vai Cazzo Vai Stai fermo stai Stai fermo stai Stai fermo stai Noi ci muoviamo Noi ci muoviamo Spara il tizio nero di là Sembra Vegas però Ma non è Vegas Bombardalo Bombardalo Ci sta prendendo Occhio 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 man Oh mi prende Mi prende Occhio Perché non ti prendo Stai laggando tutto Esplosioni atomiche E c'è la dinamite Stai sparando tutto Siamo in quattordici Siamo in quattordici Siamo in quattordici Dai andiamo bene andiamo bene Ma è gigantesca con questa mappa Non so se vede la mappa Oddio mi stanno sparando dall'alto Mi attenzia Non so se sei tu Non sei tu Perché è senza skin Merda Lo vedo lo vedo laggiù Forse lo prendo forse mi hanno fatto cadere pezzi di merda Io e Surry stiamo dominando la mappa Anonymous Anonymous Bombardalo 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 Sta quasi per cadere L'altro laf Merda Il merdoso deve cadere Dai gli spoglio la strada davanti Eh no si muove troppo veloce Ma tu si fa Surry che stai facendo? Che è successo? Mi sta sparando Surry Surry questa Che non ci fai Bastardo boicottatore di merda Come state messi? Non lo so Un cazzo No 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 Surry sei un maledetto comunque Veramente Bastardo Io me ne vado Oh mio Dio E' lo splag più lungo del Una mappa si fa sempre più piccola E' morto Ah siete dei cagnacci Pinocchi Moveteli Surry Tira fuori le palle Attaccalo cazzo Massacratevi La guerra Attenzione Intervistiamo Surry al power Che cosa ne pensa di questa modalità? Ha paura che le uova le distruggiano la vita Guarda non risponde È concentratissimo Sembra un succo di pomodoro Faccio Concentratissimo Da ridere mi stavo preso per sparare da solo Oh no Ha paura Ha paura Ha paura E vince il nostro mino con la faccia da merda Cioè siete riusciti a perdere contro uno in due Eh perché sai con me Lui se iniziano a sparare a me è un coglione Non è vero È perché era il tizio sotto di te E allora cerca di sparargli Non ce n'era per nessuno Allora ragazzi questo video è terminato Abbiamo fatto delle cose anche un po' diverse Per esempio il Dramating era particolare E quello delle uccisioni Questo video dello Splagg l'avevate già visto ma è un paziente Ragazzi ringrazio Surry e Vegas per la participazione Grazie a tutti Ciao ragazzi Ciao Ma non ho detto salutate Invece ne saltiamo a potessi Se la prossima 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 Salutate Ciao 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 Ciao